ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi siamo qui per unboxare il mio nuovo telefono lo xiaomi b10 lite 5g ires audio ho visto la recensione 3 galeazzi in 10 lite 5g un ottimo telefono con 6 gb di ram e 198 gb di roma andiamo ad aprire la confezione dentro abbiamo la cover e le carte di informazioni c'è il telefono che è già acceso ecco qui il telefono fantastico la camera poi la confezione poi c'era il caricatore con il caricabatterie la confezione avete anche una cover con il telefono che ha già la pellicola sopra e tutto questo è l'unboxing del mio nuovo telefono se ti piace commentate e iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli